Il Campobasso di Vullo si trova terzo ultimo in classifica in Lega Pro e ha un'impellente necessità di fare punti. La gara del Granillo di Reggio Calabria, giocata alla Befana con l'esordio di Fella e Maiella, segna la seconda sconfitta consecutiva dei Rosso-Blu. Partita brutta, ma più in generale la sterzata tanto attesa non arriva. Il Campobasso arranca pareggiando una settimana dopo contro l'Arzanese, partita in cui il presidente Capone si esibisce in un esilarante a solo tramite microfono con contenuti offensivi verso l'arbitro, il signor Giovani di Grosseto. Il singolare episodio costa 10.000 euro di ammenda ai Rosso-Blu e una ribalta nazionale e non solo, non proprio gradita. Le sconfitte toscane di Poggi Bonzi prima, Pontedera poi, sono intervallate dal successo Casalingo contro l'Aprilia. La capolista Pontedera il 3 febbraio batte il Lupo con una doppietta di Grassi. La distanza dal Melfi, quart'ultimo, è di quattro punti. Il Lupo sembra davvero andare incontro alla retrocessione. Dopo due anni in Lega Pro ci vorrebbe una cavalcata trionfale, quella che poi succederà allo storico Campobasso di Vullo del girone di ritorno. La serie utile di Di Vicino e Soci comincia con il successo per 3-1 sull'Aprilia, prosegue con i tre punti sul Gavorrano, entrambe squadre abbordabili. In prospettiva per i Lupi ci sono due incontri terribili, trasferta all'Aquila. Gara interna contro la supercapolista Salernitana. L'incredibile Campobasso di Vullo acchiappa sei punti dagli scontri in questione. Perfetta la gara di L'Aquila dove segna Maiella il 3 marzo. Una settimana più tardi, con una cornice di pubblico spettacolare, Minadeo castiga la Salernitana che sotto la guida di Perrone non aveva mai perso. Selvapiana è in delirio. Di Vicino a fine partita si prende gli applausi dei suoi ex tifosi. Una bellissima immagine di sport. La china è risalita quasi. I Lupi sono a 31 punti, ma distrarsi non si può, anche perché nei bassi fondi della classifica si accende una grande bagarra da cui sono escluse avverse e fondi. Già retrocesse, quindi distributori di punti con gli avversari di turno. Alla Mezzia è un giusto 1-1. Altro pareggio a Martina. Il 24 marzo il Campobasso riprende la marcia vincente a Foligno. Dopo tre pareggi consecutivi decide un diagonale chirurgico di Maiella su assist di Fella. Il Foligno viene affossato. I Lupi in pratica si salvano in Umbria. A livello societario però regna lo stallo più assoluto con il presidente Capone che si affanna a denunciare pubblicamente più volte la situazione di forte difficoltà finanziaria. Egli evade la scadenza Covisoc del mese di aprile. I giocatori si trovano in condizioni disagiate, ma nel frattempo compiono un miracolo sportivo. Salvare il Campobasso da una retrocessione che poteva apparire certa fino a qualche mese prima. Straordinario il gol di Bussi il 21 aprile contro il Teramo. L'attaccante romano è giocatore non facile al gol, ma contro gli abruzzesi trova davvero una rete da applausi. I punti sono 40, addirittura 8 lunghezze dalla zona playoff. Quasi non ci si crede se solo si pensa al pasticcio compiuto dal direttore sportivo Multineddu in sede di costruzione estiva dell'organico. Merito di tutti in primis di Sasabullo, allenatore che era senza panchina e che trova nuova linfa per ripartire proprio dal Molise. Dopo la cocente delusione della finale playoff persa alla guida dell'Avellino. Già scritta la vittoria del Lupo ad Aversa dove arrivano i fattidici 43 punti. Capone mette in vendita la società. Si fa avanti Giulio Di Palma, imprenditore dalle origini molisane trapiantato a Vicenza. La società è contesa da Di Palma che scende diverse volte dal nord-est per incontrare Capone, il quale in un primo momento non nasconde delle resistenze alla cessione della società. Si svolgono tanti incontri tra Di Palma, un soggetto dall'aspetto non propriamente imprenditoriale, e gli esponenti del comune di Campobasso. Di Palma in realtà dovrebbe fungere da rappresentante di un gruppo di consolidati agenti interessati a un progetto in Molise, esattamente a Campobasso. Almeno questo, afferma Giulio Di Palma tutte le volte in cui viene intervistato sulla vicenda. Le parti si vedono spesso presso lo studio legale del notaio Giordano a Campobasso, laddove stipulano pure un patto di riservatezza con cui si impegnano a rivedersi da lì a un periodo di tempo per riflettere sulla questione. Capone gradirebbe essere mal levato da una fideghiussione rientrante nell'ingente corpo debitorio del Campobasso Calcio. La società, dice Di Palma, è già tecnicamente fallita. Già da questo si potrebbe sentire puzza di bruciato. Le parti si raffreddano per alcune incomprensioni quando l'affare appariva fatto. Di Palma torna a Vicenza. Capone ripiomba nella solitudine che fa presagire a una fine del discorso calcio a Campobasso, malgrado il campo abbia e stia riservando solo soddisfazioni con una squadra fatta senza grosse spese. Il campionato del Campobasso termina con la sconfitta di Melfi del 12 maggio. I Lucani si salvano e i Lupi, già salvi, archiviano con una sconfitta interrompendo a 11 la serie di partite utili. Salernitana e Pontedera vincono il campionato. L'Aquila vince i play-off. Retrocedono Foligno a verse e fondi. Ai play-out Gavorrano in terreggio viene vinta dai Toscani. Il Gavorrano poi retrocederà per mano del Rimini nella finale play-out. Intanto Di Palma si fa nuovamente vivo e chiede ai giornalisti una breve convocazione per spiegare che il matrimonio con Capone non si è fatto sostanzialmente per motivi legati al venire meno dello stesso ingegnere Irpino a dei patti inizialmente stabiliti con Di Palma. La situazione societaria prosegue a stazionare in una situazione di estrema incertezza con Capone che passa le proprie giornate al telefono per reperire collaboratori, ovvero acquirenti, al fine di salvare una barca che sta affondando. A dire il vero, la massa debitoria è talmente ingente che solo uno sprovveduto si potrebbe accostare alla causa del Campobasso. Nuovo abboccamento tra Capone e Di Palma verso la seconda metà del mese di maggio. Sembra essere clamorosamente la volta buona. I due si vedono sempre nello studio del notaio Giordano, dandosi nuovamente appuntamento al 4 di giugno, giorno dell'avvenuta cessione della maggioranza del pacchetto azionario. Dopo cinque ore di Camera di Consiglio termina la settennale parentesi di Ferruccio Capone al Campobasso, il quale al termine dei lavori si mostra visibilmente commosso. Non fa una piega il volto di Giulio Di Palma che viene anche abbracciato da una sciarpa rosso-blu messa agli al collo da alcuni tifosi che hanno vissuto la spasmodica attesa fuori dalla stanza del dottor Giordano. L'accordo prevede il 51% del pacchetto azionario del Campobasso nelle mani di Di Palma, il 49% a Capone che nel giro di due anni si sarebbe defilato del tutto. Di Palma, nuovo presidente, convoca una conferenza stampa in cui presenta il nuovo DS Antonio Recchi, personaggio che desta qualche perplessità da subito, potendo vantare si fa per dire nel suo curriculum esperienze non esaltanti con la giustizia ordinaria. Qualche giorno più tardi viene nominato Stefano Avincola, nuovo allenatore del Campobasso. Strana anche questa scelta che ricade su un tecnico che non ha mai lavorato in Lega Pro. A giugno Di Palma inizia il proprio lavoro che ha una durata molto limitata. Da subito il Vicentino si affretta a palesare dei debiti fuori bilancio e che una situazione contabile non del tutto chiara, lo stesso comune di Campobasso, non cede troppo facilmente alle richieste di gestire l'intera area di Selvapiana per 30 anni da parte di Di Palma. Equitalia fa emergere altri debiti di cui Di Palma ignorerebbe l'esistenza. Uno di questi con il fisco ammonterebbe a quasi 500 mila euro che Equitalia, secondo Di Palma, non consentirebbe di ralteizzare. Anche qui le perplessità iniziano a emergere. Di Palma cambia una miriade di versioni sui suoi soci di cui a questo punto si ignora anche l'esistenza. Alcuni pesci grossi si sarebbero tirati indietro, circostanza quest'ultima che unitamente al debito di recente conoscenza induce Di Palma a non iscrivere il Campobasso in Lega Pro. La notizia è triste. Il Campobasso, così esaltante nei numeri del campo, viene tagliato fuori dalla Lega Pro proprio mentre i tifosi si coalizzano e indicano una conferenza stampa in cui scatta una specie di conto alla rovescia per la Serie D. Una ventina di giorni, circa per avvalersi del lodo Petrucci, servono 300 mila euro. Anche il sindaco Di Bartolomeo e altri politici presenziano alla conferenza stampa, occasione molto fumosa nella quale non si cava un ragno dal buco. La sensazione è che la somma sia ingente e che la realtà è che i tempi sono molto stretti. Viene costituito il comitato Noi siamo il Campobasso per dare là a una raccolta fondi che serva poi come presupposto per entrare nella futura e costituendo la società del Campobasso Calcio. Fatto messo in atto anche per dare una certa voce al tifo del capoluogo. presente anche di Bartolomeo alla costituzione del comitato. Anche se poi stranamente nel corso della raccolta fondi il primo cittadino così attivo nell'enunciazione delle fondamenta del comitato si asterrà ad alversare il proprio contributo. In città si diffonde la voce dell'interessamento al Campobasso da parte di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il mediatore è Adelmo Berardo. La trattativa e l'interesse sono confermati anche se poi l'accordo si arena perché si scopre grottescamente che il Campobasso non avrebbe il diritto di avvalersi dell'Odo Petrucci. Lo scoramento cresce in città i tifosi vengono colti di soprassalto salta la trattativa Lotito. Adesso cosa si fa? Il tempo di riorganizzare le idee che l'eccellenza molisana diviene l'unica possibilità di calcio nel capoluogo. E allora via al reperimento del titolo di eccellenza. Si chiede al Campobasso 19 dietro cospicua offerta economica ma a luglio sfuma tutto perché Lozzi, allenatore proprietario del Campobasso 19 preferisce coltivare il proprio orticello anziché mettere a disposizione della città il titolo sportivo. Si vira sulla dirigenza della Santeliana fresca di ripescaggio in eccellenza accordo fatto ma anche qui salta tutto perché la faccenda non convince alcuni tra i maggiori esponenti del comitato di tifosi presieduto da Giulio Perrucci. Il Campobasso infatti dovesse rilevare il titolo della Santeliana sarebbe costretto a migrare proprio nel paese ai confini con la Puglia per le gare interne e allora si rifà viva la pista che porta al Campobasso 19 che nel frattempo aveva iniziato la preparazione nel bailam generale si ventilava pure la possibilità che sfumasse l'eccellenza per ripartire dalla promozione con il titolo delle Acli Campobasso anche qui la possibilità è tramontata l'accordo con la proprietà del 19 viene stipulato il Campobasso riparte dall'eccellenza siglata l'intesa la squadra viene costruita nel giro di un paio di giorni con i giocatori che erano già stati bloccati a voce la squadra viene affidata a Farina ormai un molisano d'adozione e a Walter Brandoni nella veste di preparatore atletico torna in Molise Scudieri ritorno in rosso-blu per Monti fascia di capitano per l'inossidabile Minadeo uno dei superstiti della Lega Pro unitamente ai portieri di Cattenari e Nunziata eppure a Mauriello che aveva debuttato con Vullo in rosso-blu il difensore scampamorte il centrocampista Fazio gli attaccanti Vitelli e Lazzarini per ultimo si aggrega pure Guglielmi dal Termoli il Campobasso è costretto a un super lavoro perché gli impegni sono imminenti i lupi si preparano alla stagione giocano contestualmente anche una volta ogni tre giorni in funzione delle partite di Coppa Italia il campionato inizia la prima settimana di settembre con la vittoria per 2-1 sul Roseto grazie ai gol di Lazzarini e Minadeo il resto è storia recente con la squadra che conosce un solo risultato cioè la vittoria e estromette subito dai giochi l'unico antagonista sulla carta quel Fornelli battuto a Selvapiana da un rigore discutibile di Guglielmi il Campobasso gioca all'antistadio Acli con la promessa di tornare a Selvapiana struttura principale che necessita di alcuni lavori al manto erboso per essere nuovamente fruibile la migrazione venne posticipata due volte con la promessa di farvi il ritorno nel 2014 perché lo Scorrano è la vera casa del lupo la squadra integrata anche da alcuni giovani interessanti come Cianci e Volpecina non conosce mezze misure vince soltanto battendo pure il record stagionale dell'Aqui squadra dell'eccellenza piemontese capace di 14 vittorie consecutive il Campobasso battendo il Roccaravindo la Venafro abbatte il record menzionato la strada è spianata anche in Coppa Italia i Rossoblu guadagnano il pass per la finale stromettendo il sesto campano nel doppio confronto finale in programma il prossimo 2 febbraio proprio contro il Fornelli in campo neutro i Rossoblu arrivano alla prima di ritorno con 16 vittorie consecutive e un margine di vantaggio di 11 punti sulla seconda cioè la gioventù da una il 2014 sarà l'anno del ritorno in serie D dei Rossoblu di Farina con un progetto interessante basato sulla misura nella spendita delle risorse per non incappare in ulteriori fallimenti triste moda del calcio campobassano vessato ai noi da 4 fallimenti negli ultimi 23 anni